La storia infinita dell'erigendo ospedale San Cataldo di Taranto, una favola ormai raccontata dal sindaco Melucci, dal presidente della regione Emiliano, dal commissario straordinario Michele Pelillo. Sta di fatto che quest'opera è tremendamente incompiuta, doveva essere consegnata dopo mille ritardi già lo scorso 10 agosto e si rinvia a novembre. Ma siccome i tempi si stanno allungando di brutto, cosa si inventa? L'onorevole Michele Pelillo, commissario straordinario, dice che bisogna fermarsi un attimino e bisogna rimodulare il progetto per far sì che all'interno possano essere assicurati degli spazi per i corsi universitari di medicina. Quindi prima si inaugura la facoltà di medicina, poi ci si rende conto e si dice no, ma quei corsi anziché presso l'ex Banca d'Italia in Piazza Ebalia sarebbe più opportuno metterli qui. Quindi caro Michele Pelillo facciamo come il gioco dell'oca, prima andiamo avanti, poi ci fermiamo, poi torniamo indietro, poi andiamo avanti. Caro Pelillo basta con queste favole, basta con queste chiacchiere, l'ospedale si deve continuare, si deve arrivare a una realizzazione immediata, rapida, altro che prendere tempo, prendere tempo e prendere tempo. Queste sono solo pezzi a colore per allungare i tempi e per giustificare gli assurdi, gli incredibili ritardi. Oltretutto io mi domando, onorevole Pelillo, lei la sua ovviamente è una nomina politica qui come commissario, ma massimo rispetto per il suo ruolo, per quello che lei fa, ma in concreto, visto che le sue competenze sono altre quanto appunto a gestire l'erigendo ospedale. Ora è un cantiere, è solo un cantiere. In cosa si sostanzia la sua attività? Non penso che faccia il capocantiere la mattina e vada a controllare come un geometra o come un ingegnere i lavori. Ecco, vorrei capire da lei qual è il suo ruolo attivo. È una domanda, non è nessuna offesa o nessuna allusione o alcun, non voglio assolutamente screditare il suo ruolo, ma vorrei capire cosa fa in concreto, perché qui è solo un cantiere e qui si possono fare solo cose che un geometra, lo ripeto, o un ingegnere può fare. Non so lei cosa faccia a tal proposito, caro Pelillo, e quale sia quindi il ruolo consono alle sue competenze in quello che è un cantiere infinito. Vedrete, passeranno i mesi, passeranno gli anni, i tempi si allungheranno sempre più e questa cattedrale nel deserto, questa favola del San Cataldo, continuerà a offuscare e sarà l'ennesimo fumo gettato in faccia ai tarantini. Il bello è che hanno dichiarato che lavorano giorno e notte, anche di notte, alla faccia. E meno male lavorano pure di notte e ci sono questi enormi ritardi. Figuriamoci se lavorassero solo di giorno. Siamo proprio inguaiati, eh. Meluzzi, sindaco Meluzzi, in campagna elettorale dicevi che la realizzazione del nuovo ospedale è merito tuo. Emiliano, quante chiacchiere che racconti dalla mattina alla sera. Guardate, guardate, doveva essere consegnato già da un anno ed è un cantiere in piena costruzione che probabilmente si fermerà e poi riprenderà. Si ferma e riprende, inizia e finisce. Che scempio, il gioco dell'oca chiamato ospedale San Cataldo di Taranto. Grazie a tutti.